E beh, anche qui insomma, nonostante i racconti un po' curiosi che sentiamo fare, leggiamo ogni giorno sui quotidiani, centrodestra diviso, centrodestra che discute, devo segnalare che insomma la verità è che qui c'è una coalizione di partiti che stanno insieme per scelta, mentre al governo noi abbiamo una coalizione di partiti che stanno insieme per interesse, schifandosi. Perché voglio dire, io ho sentito la dichiarazione di Matteo Renzi che dice all'idea di allearmi con i 5 Stelle ancora mi viene il volta a stomaco, però sempre alleato con i 5 Stelle sta, che vuol dire che sono disposti eventualmente a vomitare ma non a abbandonare la poltrona. Ecco, dalle parti nostre questa roba qui non accade, noi siamo insieme perché le nostre idee sono compatibili, poi ovviamente siamo tre partiti diversi, abbiamo le nostre sfumature, ciascuna di quelle diversità è una ricchezza per l'intera coalizione e quando conta siamo insieme, che noi rappresentiamo un modello di governo alternativo che vorremmo portare non solo in regione toscana come ottimamente abbiamo fatto in diverse amministrazioni dei comuni toscani, qua vedo anche Diego Petrucci dietro di me, quindi l'amministrazione da betone, penso a Pistoia, insomma tante realtà nelle quali abbiamo vinto per la prima volta, si sta ottimamente amministrando, vorremmo farlo anche per la regione toscana con Susanna Ceccardi, anche al governo nazionale, semmai questi signori ci concederanno libere e democratiche elezioni.